Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie, grazie a tutti. Buongiorno. 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 Questa è una dolomia, dolomia una roccia molto compatta. E' un po' di consumo di mele. Questo dipendente. L'80% donne, l'81%, chiudendo ormeticamente il rapporto ovviamente. Quindi stiamo rovinando un po' di mele, queste sono le Golden Delicious. Golden Delicious, tutte Golden... Per vedere un po' l'elemento di mele. Melinda è su. Ali. Posso mettere un piccolo slogan? Grazie a voi, complimenti a Tasullo, complimenti al Consorzio Melinda. Abbiamo scoperto una cosa che io non conoscevo nel modo più assoluto e quindi sono felicissimo di essere qui. Trovo che questo sia un luogo straordinario perché l'idea che si possa recuperare il 50% dell'energia elettrica diciamo da una diversa organizzazione della conservazione degli spazi legati alle mele che si riesca a intervenire in un settore così importante come questo della industria tradizionale con operazioni di innovazione che possono essere sia collegate ai data center e tutti noi sappiamo quanto sia un tema fondamentale per il futuro che alle conservazioni di prodotti come la mela credo che sia assolutamente interessante. se poi pensate che il Presidente mi ha dato la mela, la fibra e siamo nel momento in cui l'Italia riparte con l'Expo e non solo con l'Expo beh, trovo che sia un gesto simbolico molto bello per cui in bocca al lupo a tutti voi un unico auspicio, un'unica speranza, un'unica richiesta a chi lavora qui, non solo i giornalisti che stanno ovviamente facendo il loro lavoro ma a chi lavora qui, leggiamo tante cose in questi giorni per cui l'Italia riparte o non riparte l'Italia riparte se gli italiani ci mettono il loro impegno, il loro ingegno, la loro fantasia, la loro tenacia io l'ho vista qui visitando con voi questo luogo e vi ringrazio credo che per salutare l'Italia non basterà che ci sia un Presidente di Provincia, un Presidente del Consiglio occorre che ci siano i cittadini e allora di cuore al Consorzio Melinda, a Tassullo, a tutti voi non soltanto a Tassullo, a Melinda, a tutti coloro che lavorano qui l'augurio e l'invito a darci una mano perché l'Italia la rimettiamo in moto insieme e grazie Ugo e adesso andiamo che se no facciamo tanti